I titoli Un incidente all'Astrarò l'Alguè e Sassar L'Ubisba è andata a trovar i lavoratori della miniera di L'Umero Catalunya Tensione siamo al governo spagnolo Tonino Baldino Noo diretor dell'Ufficio di Oceza per problemi sociali e di traball Sigla Emanuele Farinelli Santa Maria La Palma Vendita umido e accessori Italia, Cuba, Nicaragua Repubblica Dominicana Honduras Buon dia Bentro a parte della informazione di Aguero Channel La informazione di voi Un incidente all'Astrarò dell'Alguè e Sassar Due polcrabus sono stati ambestiti di un furgo Molto gli animali Ma salvo l'autista Pronti all'intervento della polizia stradale Aire l'Ubisba dell'Alguè e Morfino Ha visitato la miniera di L'Umero E ha incontrato e ancoraggiato I lavoratori che di un mese Hanno occupato il luogo Per domandare attenzione alla diricare la situazione La Catalunia Suspende la dichiarazione di indipendenza Per avviare il dialogo Perché in questo momento Salveggia riduì Proprio l'attenzione Come il governo central Che si incontrano L'Ubisba dell'Alguè ha nominato Un frate Francesca Minor Per Rino Zunui La mozzarella di bufala Se è nobile E meglio Farinelli Fresco Market A Crescia Talda Aracis De Talda Transmitim Lo consult Che ha eseguit Che ha tobat La banda musicale Antonio Dalio Cideraghi Nel dia De la festa Del nostro patrò Salmichel Ora La previsió del temps Per demà Us enteniamo Despris Grazie a tutti A voi Un proverbi Un furat Chiara polta Chi te il mal San al polta Ammo sveuere da ma Ammo sveuere da ma Ammo sveuere da ma